Che cosa dice la voce dei profeti nella Sacra Scrittura rispetto al tema del lavoro? Per un lavoro secondo giustizia, la critica sociale dei profeti, proprio il tema di questa apertura della settimana biblica a Diocesana qui ad Andria? Sì, il messaggio dei profeti non è specifico sul lavoro, ma è più ampio su ogni aspetto della giustizia e paradossalmente il loro messaggio è innanzitutto la denuncia dell'ingiustizia. Cioè, se si vuole ascoltare i profeti per capire il lavoro umano non basterebbe, manca ad esempio tutta la voce sapienziale, il momento dell'impresa. Il profeta è preoccupato di fare emergere ciò che è nascosto e ciò che è nascosto sono le strutture di ingiustizia, le quali più profondamente però si radicano in un cuore ingiusto. E a proposito di questo, attingendo proprio dalle Sacre Scritture e quindi dalla voce dei profeti, come possiamo in qualche maniera affrontare anche un periodo difficile per quello che riguarda il lavoro e che coinvolge tanti ragazzi, ma non solo? Ma proprio in questo senso il messaggio dei profeti serve moltissimo perché ci ricorda che la situazione della crisi del lavoro di oggi, per un verso, è anche a volte una crisi dell'impresa, della creatività, è necessario ripensare delle vie, peraltro è anche comunque a volte anche il frutto di meccanismi ingiusti e di scelte poi dove l'economia, dove le cose vengono prima della persona, la proprietà viene prima della libertà e tutto questo ai profeti non sta bene e perciò sono voci scomode, vengono tacitate. Ricordo solo che ad esempio il profeta Geremia maledice, anzi fa una specie di pianto funebre sul re Joachim perché aveva fatto costruire un ampio palazzo, quindi aveva dato lavoro, sì, il palazzo è peraltro foderato di legno, di avorio, eccetera, ma poi ecco la Giunta non ha pagato il salario agli operai, perciò non merita neppure la sepoltura, sarà trattato come un asino. In realtà le cose andranno un po' diversamente come pensa Geremia, ma ecco perché era una voce scomoda. La settimana biblica diocesana è a sostegno del programma biennale pastorale incentrato per volere del nostro vesco Monsignor Raffaele Calabro sul tema della famiglia tra lavoro e festa e cercheremo, ecco lasciandoci proprio in questi giorni illuminare dalla parola di Dio di ricavare quella che è la visione più vera e più autentica presente nella Sacra Scrittura della famiglia, del lavoro e della festa. Inizieremo le prime due serate proprio sul tema del lavoro, questa sera la critica sociale dei profeti a difesa soprattutto dei più deboli, domani invece la visione del lavoro presente in alcuni testi della letteratura sapienziale. Nella terza serata invece il tema della festa, del giorno del Signore, concluderemo con il tema della famiglia, in modo particolare ci soffermeremo su quelle che sono le caratteristiche dell'amore coniugale. I relatori sono tutti dei graditi ritorni e abbiamo chiesto loro di dare un taglio non tanto dottrinale quanto soprattutto pastorale e loro interventi proprio perché vogliamo far tesoro di quanto ci diranno.